In sette a processo per l'omicidio di padre Fausto Tentorio, missionario del Pime originario di Santa Maria Oe, assassinato all'età di 59 anni il 17 ottobre del 2011, fuori dalla sua parrocchia ad Arakan, nelle Filippine, a raccontare la nuova svolta giudiziaria nell'irrisolto caso del padre Pietro Geremia, anche gli missionario a Mindanao, dalle pagine di Asia News, organo di informazione del Pontificio Istituto Missioni Estere. Nelle Filippine, da oltre 32 anni, padre Tentorio sarebbe stato mal visto dall'esercito per la sua attività a favore dei tribali Manobo, minacciati dallo sfruttamento delle miniere. Nel dicembre 2017, l'iscrizione di nuovi sospetti nel registro degli indagati aveva segnato un'importante novità nell'inchiesta. Il Tribunale, secondo quanto riferisce Asia News, avrebbe ora deciso di avviare un processo nei confronti di Jimmy e Robert Ato, i sospetti killer, Jan Corbala, comandante di un gruppo di militanti tribali chiamati Bagani, e tre membri della sua unità, Nene Durado, appartenente al movimento Ilaga, composto da coloni cristiani fanatici che combattono contro musulmani e tribali sindagiani i 70. Sarebbero cadute invece le accuse contro alcune delle persone che in precedenza erano state inquisite, come l'ex sindaco di Arakan, Romulo Tagpos. I quattro testimoni chiave e le loro famiglie sono tenuti in luoghi sicuri sotto l'apposito programma di protezione, spiega padre Geremia al giornale del Pime. In tribunale si presenteranno a deporre per la prima volta anche altre persone. Il procedimento può identificare i responsabili e il movente dell'assassinio e così avere giustizia almeno parziale per padre Fausto. Allo stesso tempo, conclude padre Geremia, può rendere più sicuri anche quanti portano avanti i programmi di Fausto Tentorio e coloro che lavorano per i tribali in tutto il paese, ispirando sempre più volontari a servire ai poveri, oltre a portare un po' di conforto alla famiglia Tentorio e a quella del Pime e a tutte le comunità che hanno condiviso le iniziative del sacerdote.